buonasera sto per farvi condividere un sogno come potete vedere questo biglietto ha già il massimo moltiplicatore di vincita il 20 per ora lo andremo a grattare e vedrete che uscirà un 25.000 che moltiplicato per 20 darà una bellissima somma attenzione 0 0 5 ma non sono i 500 mila o almeno 100 euro lo sono ciao a tutti